Putin stan come la Russia è diventata uno stato canaglia, il nuovo libro di Giorgio Fornoni, reporter di Artesio. Perché è un libro sulla Russia? Da dove nasce questo lavoro? Ma ho viaggiato abbastanza tanto per il mondo e dopo il periodo del Covid ho cominciato così a scrivere un po', non dico le mie memorie, però ho recuperato tutte le storie dei percorsi che avevo fatto. Ovviamente in questo ultimo periodo la Russia è diventata diciamo uno stato protagonista del mondo della guerra e così via. Ho proposto a Chiare Lettere della casa editrice se mi potevano pubblicare almeno il pezzo dei Gulag. Ho speso tanti viaggi nei Gulag, ho incontrato un grande personaggio, Grigori Pomeranz, amico di Solzhenitsyn, quindi personaggio straordinario. Ho proposto questo materiale appunto a Chiare Lettere che già conoscevo perché nel 2010 mi aveva pubblicato i confini del mondo, poi un altro lavoro con Mauro Corona. Ecco e ho proposto se mi pubblicavano questo dei Gulag. L'han visto? Han detto di sì. Oltre a questo che cos'hai? Allora ho fatto un po' un elenco, ho mandato il materiale che già avevo costruito diciamo come viaggi, come storie e loro subito hanno detto facciamo il contratto e il giorno dopo mi hanno fatto il contratto proprio per fissarmi questo. Ovviamente Putistan è un nome che abbiamo recuperato recentemente. Ho cominciato, ho impiegato circa due anni a fare questo lavoro, ho recuperato tutte le storie delle inchieste perché noi abbiamo, cioè dalla guerra in Cecenia all'inizio, abbiamo dallo stretto di Bering, abbiamo la transiberiana, abbiamo le armi di istruzione di massa, abbiamo la storia dei giornalisti russi di prima linea, cioè c'è proprio un tutto un po' un condensato di quel che è stato diciamo dopo il disfacimento del mondo sovietico, cioè praticamente dall'arrivo di Putin. Quindi quel Putin che veramente come definiva il mio amico Andrei Mironov che è morto in Ucraina diceva Putin è l'uomo dall'anima svuotata. Perché? Chiedevo. Sì perché quando ho cominciato con la guerra in Cecenia, perché è stato lui con lo soccorso della guerra in Cecena, diceva ai suoi soldati accoppateli nel cesso, quanta cattiveria e poi ogni volta non ho voluto sedersi a trattare con nessuno. Vediamo il teatro Dubrovka, c'erano i guerriglieri asseregliati, vediamo Beslan, vediamo la storia del gas che è riuscito attraverso i suoi gasdotti a obbligare il mondo europeo a essere dipendente da lui, dalla guerra in Georgia nel 2008 che anche lì è riuscito a portare sotto di sé Abkhazia e Ossetia facendoli diventare filo russe perché volevano entrare nella Nato. Lui ha dichiarato se la Nato si avvicina ancora di più e fa qualcosa io vado in guerra ed è quello che lui ha fatto appunto il 24 gennaio del 2022 ed è quello che comunque è riuscito ad avere un consenso totale quasi in Russia perché lui avendo in mano tutte le televisioni e tutti i giornali è riuscito a far capire alla gente che la sua guerra era una guerra diciamo tra virgolette santa perché serviva per tenere lontano diciamo quel mondo occidentale che lo stava aggredendo per la storia della Nato ma anche proprio anche per la mentalità totalmente diversa, un po' diversa dalla nostra insomma perché il concetto di democrazia in Russia è un concetto diverso che è quello del nostro insomma. Già era entrato nei G8 perché aveva diciamo il nucleare e se parliamo di nucleare veramente io ho fatto un'inchiesta sui sommarigibili russi e sulle città chiuse dei nucleari veramente c'è da mettersi le mani nei capelli e quindi veramente se non arriviamo alla pace come dice il Papa sarà veramente un mondo che distruggerà a se stesso.